Neanche due giorni e già abbiamo il primo infortunato Poi in realtà pare che Ocafora abbia preso solo una botta in testa Chissà che questa cosa non lo porti a diventare un grande centravanti per il Milan No, scherzi a parte, speriamo che questa sosta per le nazionali Ho visto Giroud fare dei tiri in porto, ho visto delle cose Incrociamo le dita, incrociamo le dita perché ogni volta Fate i bravi, fate i bravi nazionali